promosso in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano. Birraforst vi augura buona visione di 2M al quadrato. Herzlich willkommen bei 2M hoch 2. Heute geht es ums Osterei. Wir sind hier in Kastelruth auf dem Oberstammverterhof. Hier gibt es 1000 Hühner und insgesamt gehören sieben Höfe zu einer Genossenschaft, die wir alle kennen, nämlich den Schlernhof mit insgesamt 20.000 Eiern am Tag. 2M al quadrato vi porta a Kastelrotto. Siamo ospiti dell'Oberstammverterhof, un maso che fa parte di una cooperativa, la famosa Schlernhof. Sette masi, oltre 23.000 galline, 20.000 uova prodotte ogni giorno. Ovviamente il tema è quello della Pasqua. Andiamo a scoprire le origini delle uova di Pasqua, ma non di quelle di cioccolata. 800 uova prodotte ogni giorno in questo allevamento. Vedete, le galline sono libere. 800 uova non è semplice produrle, non è neanche semplice riuscire a recuperarle tutte entro la fine della giornata. Andiamo a vedere come succede. Die Hühner können frei in diesen Stall hinein und auch hinausgehen. Hier drin haben sie dann das Futter und Wasser und auf der rechten Seite da sind Boxen. Da geht das Hühner gerne alleine hinein und legt sein Ei und das kriegt man dann über dieses Laufband hier herausgeholt. Questo è il risultato finale. Le uova arrivano grazie a questo nastro trasportatore azionato a mano, ma tutto ha origine dietro quella finestra che André vi ha mostrato poco prima. Dietro quella finestra c'è la stalla, in sostanza dove le galline possono entrare e uscire liberamente. Qua trovano da bere, da mangiare e dove depositare le uova. Tutto questo per riuscire ad arrivare a Pasqua, ad avere tantissime uova da colorare e da regalare. Warum aber gibt es an Ostern gefärbte Eier oder angemalte Eier? Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist das Ei ein Fruchtbarkeitssymbol. Dann aber im Mittelalter gab es am grünen Donnerstag die zehntabgabe der Bauern an ihren Lehenzern. Das heißt, von 100 Eiern wurden 10 abgegeben. Und der grünen Donnerstag ist der Donnerstag vor Ostern. Perché si pitturano le uova nel periodo di Pasqua? La storia ci insegna diverse ragioni. Una è un simbolo di fertilità, l'uovo, ovviamente lo sappiamo tutti. Un'altra fonda le radici addirittura nel Medioevo, quando c'era l'usanza di dover dare al padrone, da parte dei contadini, il 10% delle uova prodotte. Ein anderer grund war, dass man in der ersten Zeit keine tierischen Produkte gegessen hat. Und so wurde dann das Ei an Ostern eine ganz besondere Speise, eine ganz besondere Gabe, die man gefärbt hat und dann auch versteckt hat. Das hat mit dem Osterhasen zu tun. Doch da werden wir nächste Ostern drüber berichten. Uno dei motivi per il quale si pittura l'uovo di Pasqua è la Quaresima. In passato, nella Quaresima, non si mangiavano prodotti di origine animale, proprio nessun prodotto, compreso anche l'uovo. Allora, proprio l'uovo diventava qualcosa di molto prezioso da regalare, in forma particolare, cioè pitturandolo. Vor dem noch schneebedeckten Schlern wünsche zwei Mhoff 2, frohe Ostern und ein buntes Osterei. Già oltre la metà di aprile, lo Schigliar ancora in nevato, sembra tutto perfetto per augurarvi una serena Pasqua. Promosso in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano. Ci vediamo la prossima puntata di 2M al quadrato con Birra Forst. Buona perché ha sempre vissuto qui.